L'accordo Ruta Frattura è stato riesaminato punto per punto dai due esponenti politici e congiuntamente hanno deciso di rinviare la conferenza stampa prevista per fine anno. In particolare le vertenze relative alla formazione professionale, 80 lavoratori e ai 107 precari della protezione civile sarebbero state risolte mentre restano in attesa di atti conclusivi le altre vertenze. Per la filiera avicola, quella saccarifera e del distretto tessile, sono state poste in essere azioni propedeutiche e misure di accompagnamento per i lavoratori, non certo esaustive, e sono state attivate diverse interlocuzioni e acquisite importanti manifestazioni di interesse. Soddisfatto il punto relativo al rapporto Università-Regione con lo stanziamento di 2 milioni di euro per i programmi di ricerca nel biennio 2015-2016 e altri fondi per i percorsi scolastici formativi. Definito anche il punto relativo alla Termoli San Vittore, ormai cancellata, i 171 milioni di euro previsti dalla delibera Cipe verranno destinati alla elettrificazione della linea ferroviaria Rocca-Ravindola-Isernia e al collegamento viario Venafro con l'autostrada A1 lungo il tratto Roma-Napoli. Il risolto invece è il riequilibrio del sistema sanitario regionale con non meno del 75% da destinare al pubblico, ma con l'attuazione dei piani operativi in corso e con l'annunciata revoca del decreto numero 37, che prevede anche i 60 posti letto alla Fondazione Pavone Neuromed di Salcito, si dovrebbe completare la riorganizzazione sanitaria come sottoscritto dall'accordo. Il punto 10, infine, tutto politico, verrà illustrato in occasione della prossima conferenza stampa che si terrà dopo l'incontro con le forze politiche di maggioranza e dopo la definizione del bilancio di previsione della Regione per il 2015 che dovrà assegnare le risorse necessarie per risolvere tutti i punti programmatici dell'intesa ruta frattura. Al momento però l'accordo resta nel congelatore.